Cercasi disperatamente maggioranza e quanto afferma il consigliere comunale d'opposizione Massimo Battista dopo il rinvio dell'ultima seduta del Consiglio Comunale per mancanza del numero legale. Battista ricorda che erano molti gli argomenti importanti all'ordine del giorno, debiti fuori bilancio, una variante urbanistica, l'acquisizione gratuita di due vie in zona lama utilizzate ad uso gratuito e la nomina del nuovo presidente della commissione attività produttive. Per Battista la maggioranza sarebbe ai ferricorti e dopo le elezioni regionali si assisterebbe ad una resa dei conti all'interno dell'amministrazione, visto l'abbandono dell'aula da parte di alcuni componenti di maggioranza dell'area Bitetti in alcune votazioni e l'assenzione dei due consiglieri indipendenti per Taranto, Simili e Fuggetti. Per Battista dunque l'amministrazione comunale non sarebbe al passo delle esigenze dei cittadini e servirebbe una maggioranza forte e coesa. Secondo me al di là dei proclami di questa amministrazione di spot elettorali e non la città è ferma, è ferma assolutamente, al di là dei buoni propositi, però sostanzialmente basta farsi un giro per la città e vedere che ci sono alcuni quartieri dimenticati totalmente da questa amministrazione e bisogna cambiare passo.